A tutti benvenuti in nuova edizione del nostro telegiornale Via Libera, l'abbattimento controllato della Cornacchia Grigia, l'annuncio della provincia di Oristano ha avuto il plauso della Col di Reti. Sentiamo Mariana Guarna. Una risposta tanto attesa quanto gradita agli agricoltori. La provincia di Oristano dice sì all'abbattimento controllato della Cornacchia Grigia, una delle specie più dannose assieme a cinghiali e cormorani. Con una popolazione cresciuta a dismisura è diventata una vera e propria piaga per i campi. Era dunque indispensabile, afferma soddisfatto il direttore della Col di Reti di Oristano, Giuseppe Casu, un intervento urgente di contenimento che, come lo scorso anno, limiti l'attività distruttiva dei volatili. Gli abbattimenti, infatti, costituiscono anche un deterrente per gli animali, salvando così molte coltivazioni. Prevedere l'avvio del piano di controllo per le Cornacchie con una giusta tempistica, prosegue Casu, era fondamentale per portare serenità nel mondo delle campagne e così si otterranno maggiori risultati, afferma. La speranza ora è che i coadiutori iscritti all'albo provinciale siano subito attivati, procedendo da quei territori che hanno manifestato i disagi maggiori in termini di danno e di presenza dei volatili. Per il futuro, Col di Reti auspica che la provincia accordi la stessa sollecitudine nei tempi di esecuzione del piano e di attenzione alla problematica e, se possibile, attivi nuovi corsi per ampliare ulteriormente il numero dei coadiutori operativi nelle aree territoriali oristanesi. Hanno lavorato per mesi e oggi hanno raccolto i frutti del loro lavoro, alunni e studenti di quattro istituti scolastici di Oristano, insieme ai ragazzi dell'associazione Persone Dan, sono stati premiati il loro merito aver riciclato e dato nuova vita a oggetti da buttare. Vediamo. L'emozione e l'orgoglio per il lavoro svolto negli ultimi mesi erano visibili in ogni volto, in quello degli alunni ma anche in quello di amministratori e maestre che si sono impegnati perché la cultura del riciclo entrasse di prepotenza nelle scuole. Grazie a voci dalla Galassia 4R, evento inserito nelle giornate europee di Clean Up Europe, gli studenti di quattro istituti scolastici e ragazzi dell'associazione italiana Persone D'Andio e Ristano hanno regalato una seconda vita a oggetti altrimenti destinati al macero. Una bella giornata sul tema dei rifiuti per far capire a tutti che il rifiuto qualche volta da problema può diventare anche risorsa. Un lavoro prezioso quello fatto dai ragazzi, c'è chi ha trasformato vecchie magliette in borse e chi ha utilizzato le molle dei materassi per farne le portacandele e chi, come i ragazzi dell'APD, riadattando vecchi bancali e fondali di negozi ha arredato la propria sede. Ma lo spreco va bandito anche in cucina ed ecco che i ragazzi dell'alberghiero sono riusciti a far rivivere le ricette della tradizione con alimenti poveri come il pane secco. Buona volontà e fantasia insomma non sono mancati. Noi abbiamo iniziato questo percorso già da tre, quattro anni, non l'abbiamo ancora interrotto. Incessantemente ogni anno ci sono delle attività nelle nostre scuole a vari livelli, sul tema sempre generale dell'ambiente, della riduzione dei rifiuti, del riciclaggio, del riuso. Oggi nell'auditorio dell'Istituto Tecnico Azzeni di Oristano si sono svolte le prime azioni, gli alunni delle prime classi di via Bellini, delle terze di via Ansicora, gli studenti dell'Istituto d'Arte Diego Contini e dell'alberghiero, i ragazzi dell'APD hanno ricevuto una targa ricordo, un riconoscimento importante per non dimenticare mai quanto dobbiamo essere rispettosi dell'ambiente che ci circonda. E continuiamo a parlare di ambiente perché Torre Grande anche quest'anno ha ricevuto la bandiera blu, questa mattina a Roma la convocazione dei comuni vincitori, grande soddisfazione è stata espressa dalla giunta tenda, se sentiamo i nostri microfoni ancora l'assessore Efisio Sanna. Anche nel 2016 Torre Grande è bandiera blu, a molti farà sorridere, molti potranno ironizzare su questo importante riconoscimento, noi non lo facciamo, noi lo prendiamo molto seriamente perché essere bandiera blu significa una grande cosa per la nostra città, alla quale tutti hanno contribuito, quindi è un premio alla città, non è un premio né all'assessore né al sindaco né ad un'amministrazione, è un premio alla città perché bandiera blu è frutto di un lavoro costante, continuo che si sviluppa per tutto l'anno insomma, non è questione di spiaggia bella, spiaggia brutta, sono parecchi parametri che bisogna rispettare, noi cerchiamo di rispettarli e quindi questi sacrifici vengono pagati con questo importante riconoscimento. Dovremmo essere maggiormente orgogliosi e dovremmo essere contenti e felici perché altre realtà aspirano a questo importante riconoscimento e da anni non ci riescono. Da Aless a Oristano per un prelievo e ciò che accade da quando l'ASL numero 5 ha deciso di chiudere i laboratori di analisi nel distretto sanitario costringendogli assistiti a recarsi nel capoluogo anche per le prestazioni più ordinarie. Lo denuncia il capogruppo dei riformatori in consiglio regionale Attilio Dedoni in un'interrogazione rivolta al presidente della regione Francesco Pigliaro, all'assessore regionale alla sanità Luigi Arru. Con i laboratori chiusi, mancanza di un adeguato sistema di trasporto dei campioni di cui l'azienda non è dotata, non soltanto non è possibile eseguire le analisi ma neppure i prelievi. Ogni giorno gli utenti della ASL lamentano di servizi e carenze organizzative, si legge nell'interrogazione la preoccupazione è tanta, soprattutto in vista dell'imminente istituzione dell'azienda sanitaria unica regionale, un'opportunità di risparmio ed efficienza che rischia di venire vanificata dal mancato rafforzamento dei presidi territoriali. In provincia di Oristano il 5% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è obeso, il 23% è in sovrappeso. Lo rivela un'indagine condotta dalla ASL 5 che ora attraverso un opuscolo cerca di sensibilizzare le famiglie sui vantaggi di un corretto stile di vita. Vediamo. Ore ed ore trascorse davanti alla tv o con in mano un videogioco, frutta e verdura, neppure parlarne. Ecco l'identikit dei bambini tra gli 8 e i 9 anni fotografati dalla ASL di Oristano attraverso un'indagine condotta nel 2010. Poca attività fisica, abitudini alimentari scorrette e l'ago della bilancia sale. Qual è stato il risultato dell'indagine? Che il 5% dei bambini oristanesi sono obesi, che alcuni bambini non fanno assolutamente attività sportiva, quindi dopo la scuola, almeno due volte a settimana, che mangiano pochissimi legumi e che stanno tante ore davanti alla televisione. Da qui l'idea di anticipare i tempi e intervenire in età prescolare con un progetto finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna e promosso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL assieme ai consultori, alla Cooperativa Sociale SINOS di Simagis, la Scuola dell'Infanzia Peter Pan di Sedilo e il Nido di Infanzia di Terralba. Lo slogan? Giocando e mangiando Miglioriamo gli stili di vita. Il progetto infatti è indirizzato ai bambini di età ricompresa tra lo zero e i cinque anni. È una sfida, una sfida importante perché le giovani famiglie sono chiamate all'educazione alimentare ma all'educazione anche al movimento e sappiamo bene che l'educazione al movimento nei primi anni di vita passa attraverso il gioco. Proprio attraverso il gioco i bambini e i loro genitori sono stati coinvolti in alcuni laboratori durante i quali sono stati forniti preziosi consigli sui benefici di una corretta alimentazione e di una regolare attività fisica. Consigli che assieme ad una raccolta di gustose e divertenti ricette sono stati racchiuse all'interno di un opuscolo che la ASL distribuirà alle famiglie con bambini da zero a cinque anni. Ci siamo occupati ieri della mozione attraverso la quale i consiglieri comunali di Oristano, Massimiliano Sanna, Marco Piras, Tonino Falconi e Mauro Sulinos chiedevano il ripristino delle aiuole alberate in via Aristana e in via Arborea. Ebbene il documento è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Civica. Il documento impegna il sindaco la giunta a sostituire le piante che arrecano danno con una piantumazione di specie idonea realizzando banchettoni preferibilmente in basalto che delimitino l'area verde dalla parte asfaltata sistemando panchine e cestini per rendere il sito accogliente e vivibile. Il sindaco Guido Tendas ha riconosciuto i ritardi del comune nella sistemazione di via Aristana e dell'intera area ma la distruzione di quella strada dice iniziata quando io ero consigliere di minoranza e la città era amministrata dal sindaco Orto. Oggi siamo impegnati a trovare una soluzione condivisa con i residenti. Le scritte presenti nella grande distribuzione pane fresco tutto il giorno sono ingannevoli. i panificatori sardi promettono battaglia a tutela di un comparto che fa registrare continue chiusure. Sentiamo Gianfranco Rocci. In Sardegna due anni fa i panifici erano circa 1200, oggi sono 1050 e i posti di lavoro andati in fumo 850, numeri che preoccupano e che i panificatori riconducono per lo più a questi cartelli assai in voga nella grande distribuzione. Dove dicono panifichiamo tutti i giorni il pane caldo, non è vero, non è pane fresco, è pane surgelato, pane precotto, però la categoria è danneggiata. Il pane surgelato come ostacolo da arginare, davanti a questa concorrenza da bollare come sleale anche la crisi passa in secondo piano e sul pane surgelato e precotto il presidente dei panificatori puntualizza. È un pane che viene prodotto nei paesi dell'Este e della Spagna, viene panificato sei mesi prima anche. Soprattutto le materie prime sono scadenti, utilizzano conservanti, additivi chimici, antimuffa eccetera, che per il consumatore è un grosso danno anche alla salute. Intanto per invertire la tendenza i panificatori ripongono molte aspettative sulla legge appena varata. Votata all'unanimità dal Consiglio regionale dovrebbe garantire il pane fresco e le produzioni tipiche. Insomma il prodotto di giornata sarà immediatamente riconoscibile e per arginare questi messaggi Giampietro Secchi promette battaglia. Per quanto riguarda il pane surgelato e il pane precotto noi nomineremo uno studio di avvocati per vedere un po' di tutelare tutta la categoria. L'avvocato Paolo Moci è il garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale. Lo ha nominato il sindaco di Oristano Guido Tendas dopo aver sentito il parere della Commissione Consiliare. Il garante promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali dei carcerati. L'incarico ha durata quinquennale e viene rivestito a titolo totalmente gratuito. Intanto proseguono i seminari di destinazione Oristano promossi dall'Università di Oristano. Hanno una serie di incontri per formare gli operatori turistici del territorio. Venerdì nuovo appuntamento per parlare della sharing economy. Sentiamo. Il ciclo degli appuntamenti è dedicato agli operatori turistici, un percorso di formazione voluto da Consorzio 1 di Oristano, provincia e sì il patto territoriale che ha un unico obiettivo. Offrire qualità nella gestione delle imprese e nell'utilizzo dei linguaggi tecnologici. Punto focale tra i tanti anche l'organizzazione del web, elemento imprescindibile per chi si occupa di turismo 2.0. Sette in tutto i seminari di destinazione Oristano, quello di ieri tutto improntato sull'analisi di mercato, quale strumento per il miglioramento delle performance aziendali, è stato seguito da una quarantina di persone, in buona parte imprenditori o operatori del settore, a cui si sono aggiunti anche alcuni studenti. Il corso, totalmente gratuito, è stato presieduto da Giuseppe Melis e Marcello Azzeni, professori del corso di laurea nell'economia dell'Università Oristanese. Venerdì 13 maggio invece a farla da padrone sarà lo sharing economy nel settore del turismo, limiti e opportunità, il titolo del seminario. A ospitarlo sarà il salone di San Sebastiano in Vico Mazzini a Oristano, appuntamento dalle 9.30 alle 13.30. Ebbene questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci. Grazie. Grazie.